Manca meno di una settimana ad FC24 ed oggi vi vado a rivelare delle news importantissime. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo ad analizzare insieme tutte le novità che sono state rilasciate nella giornata di ieri dagli eSports in merito alla modalità Ultimate Team sul prossimo FC24. Innanzitutto facciamo chiarezza su quelle che sono le date fondamentali nel percorso di avvicinamento ad FC24. Difatti il 19 settembre sarà possibile iniziare a degustare un po' il gioco in anteprima, visto che alcuni content creator riceveranno un accesso esclusivo prima di tutti gli altri utenti. Mentre per noi la prima data interessante da segnare sul calendario è quella del 20 settembre, ovvero data di uscita della web app che ci permetterà di poter muovere i primi passi per poter costruire la nostra squadra Ultimate Team. Il 21 invece, il giorno successivo, sarà la volta della companion app, quindi la versione gemella della web app, ma per versione mobile. Vi basterà aggiornare la versione precedente che avete già scaricata sui vostri smartphone. Per quanto riguarda invece il 22 settembre, sarà il giorno in cui inizieremo anche noi a giocare qualora avessimo prenotato la versione Ultimate, ricevendo quindi la possibilità di entrare nel gioco con una settimana di anticipo rispetto alla versione standard. Ma non disperate, perché se non avete prenotato la versione Ultimate, ma quella standard, potrete comunque accedere al gioco dal 22 settembre, ma tramite EA Play, quindi il classico abbonamento da 3,99€ che vi permetterà di ricevere le fantomatiche 10 ore in anteprima. Una cosa che però io non vi consiglio, perché quest'anno con la prenotazione dell'Ultimate praticamente le 10 ore non servono a nulla, visto che dal 22 ci si portava a casa tranquillamente l'accesso completo. È importante tenere a mente queste date e questo calendario, perché per tutti i giocatori che riusciranno ad avere accesso anticipato a partire dal 22, sarà possibile anche partecipare a quella che è la prima promo presente su FC24, ovvero quella del Nike Mad Ready. Quindi tutta una serie di giocatori che chiaramente riceveranno delle versioni speciali e in più ci saranno anche degli obiettivi correlati per poter ricevere delle ricompense in game. Qui possiamo vedere Chiesa, che è uno dei primi giocatori che è stato direttamente ufficializzato da EA Sports. A subire delle modifiche saranno anche le stagioni presenti su Ultimate Team e chiaramente i pass ad esse correlati. Di fatti quest'anno abbiamo visto delle stagioni molto lunghe che avevano delle ricompense che di solito non riuscivano a stare al passo con l'evoluzione dei giocatori e le diverse promo che uscivano. Quest'anno invece l'impegno da parte di EA Sports sarà quello di avere delle stagioni che avranno una durata differente a seconda del periodo di gioco in cui ci troviamo e chiaramente anche di poter dare la possibilità di ricevere delle ricompense che sono attuali in base a quello che è il momento del gioco che stiamo affrontando. Udite udite però perché finalmente siamo stati ascoltati e di conseguenza ci sarà una modifica ai premi della Weekend League e delle Rivals. In particolare in entrambe le competizioni, a partire dalla Divisione 2 fino a quella Elite, dal livello 2 fino al livello 1, in generale si riceveranno dei premi migliori che però non sono stati ancora specificati. La cosa fondamentale però è che non avremo più i pick relativi alle squadra della settimana, per cui riceveremo di volta in volta invece come ricompensa delle carte che viene fatto intendere appartengono a quella che è la promo che è disponibile sul gioco nel momento in cui ovviamente andiamo a disputare la nostra Weekend League. Questo sempre per rendere attuali e sempre utilizzabili le carte che comunque ci vengono date come premio perché altrimenti quante volte ci è capitato quest'anno e anche nelle passate stagioni di ricevere un sacco di carte che alla fine andavano a finire semplicemente all'interno di SBC. C'è un'ulteriore modifica poi anche alle squad battles. Sapevamo che la durata dei tempi diminuiva da 6 a 4 minuti, ma adesso per permetterci di poterle rancare in maniera un po' più agevole, le partite non saranno più 40 ma bensì 32 per potersi classificare. Un'ulteriore novità riguarda il percorso relativo alle evoluzioni. Abbiamo imparato a conoscere questa nuova feature di FC24 già negli scorsi trailer, ovvero potremo andare ad evolvere delle carte con un determinato overall per potenziarle, ci viene finalmente spiegato come potremo andare ad operare questo tipo di potenziamento. Innanzitutto potremo andare ovviamente a livellare sia statistiche che overall delle nostre carte, potremo anche andare a modificarne il piede debole, il work rates, il playstyle, oppure banalmente andare ad operare delle modifiche che vengono definite di tipo estetico, quindi magari mi immagino nel momento in cui Mbappé o Neymar abbiano un'acconciatura particolare, magari si potrebbe operare una modifica di questo tipo. Chiaramente vi ricordo che le evoluzioni però si possono andare a fare solo su carte con overall 78 o inferior. Anche la famigerata squadra della settimana subisce un rinnovamento, infatti tante di queste carte, un po' come accadeva per i pick, alla fine non è che avevano una grandissima utilità in termini di gameplay, ma bensì maggiormente per quanto riguarda magari il completamento di alcune sfide creazione rosa. Ebbene, da quest'anno innanzitutto le carte appartenenti alla squadra della settimana avranno un overall garantito di 80 o superiore, per cui vengono eliminate tutte quelle carte un po' filler che venivano buttate per evitare di trovare overall eccessivamente alti all'interno dei pacchetti, ma con questa mossa si vuole cercare di andare a tenere attuale anche il Team of the Week. Infatti è stato detto che in base a quello che sarà il periodo dell'anno nuovamente, le carte riceveranno un aumento statistico significativo o leggermente più basso. Quindi mi aspetto magari all'inizio degli upgrade un po' più esigui, però poi mano a mano che escono anche altre promo eccetera, per far sì che i giocatori delle squadre della settimana saranno competitivi, ovviamente riceveranno dei boost più alti. Inoltre è stata confermata ancora una volta la presenza del feature ed if, per cui quei giocatori che con la stellina praticamente prendevano un doppio upgrade, con la possibilità anche di ricevere una miglioria per quanto riguarda piede debole e stelle skill. Una brutta notizia però riguarda invece gli utenti di PC. Infatti tutta l'estate c'è stato questo rumor costante relativo all'unificazione del mercato finalmente tra console e PC, cosa che però purtroppo non avverrà neanche quest'anno. Infatti è arrivata la conferma che il mercato sarà come al solito tripartito, per cui da una parte abbiamo le console classiche, quindi PS4, PS5 e Xbox di vecchia e nuova generazione che potranno comunicare tra di loro e avranno il mercato condiviso, mentre all'altra parte avremo il PC che continuerà ad essere un ecosistema a sé stante, così come sarà un ecosistema a sé stante la Nintendo Switch, ma credo che ovviamente sulla console di casa Nintendo ci sia proprio una minima parte di utenza rispetto alla moltitudine che c'è sulle console precedenti, compreso il PC, che purtroppo con questo suo isolamento perde tanto, perché insomma abbiamo visto negli anni quanto fosse difficile portarsi a casa delle carte su PC che magari andavano a prezzi incredibili, perché chiaramente essendoci comunque una domanda abbastanza alta, ma un'offerta bassina, è chiaro che poi è il mercato che fa il prezzo, quindi ci sarà ancora un anno di purgatorio e una fase di transizione, sperando che finalmente l'anno prossimo si riuscirà ad avere un mercato tutto bello unito e che soprattutto si riescano a sconfiggere questi benedetti glitcher che purtroppo su PC sono il male e poi portano a dei risultati come questo. Concludiamo con due altre novità relative innanzitutto a quello che è lo status di fondatore FUT. Avete visto sicuramente nel corso della vostra carriera sui giochi precedenti che sotto alla data di fondazione del club di alcuni giocatori c'era scritto fondatore FUT, vuol dire che praticamente si è giocatori di Ultimate Team dalla prima versione quando fu introdotta come DLC a pagamento su FIFA 09 e si era arrivati fino ai giorni nostri. Ovviamente andando con FC24 a segnare un nuovo inizio, EA Sports ha voluto azzerare questo status e conferirlo nuovamente, per cui se andremo a giocare ad FC24 entro il primo novembre otterremo questo status iconico e che ci permetterà anche di ricevere degli elementi esclusivi di gioco come ad esempio divise, stadio, elementi per personalizzare lo stadio e anche degli obiettivi che ci permetteranno di guadagnare esperienza per poter scalare i livelli del pass stagionale. Infine, per concludere, ultimo cenno, riguarda quello che è il premio della campagna pre-season di FIFA 23. è stato infatti dichiarato che i pacchetti che abbiamo guadagnato attraverso il completamento degli obiettivi su FIFA 23 verranno conferiti a partire dal 12 di ottobre. Ovviamente prendete questa data come indicativa perché sappiamo benissimo che, visto che saranno tanti gli utenti che dovranno ricevere queste ricompense, le cose potrebbero un po' slittare e ci potrebbero essere dei ritardi. Ragazzoni miei, per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste novità. Finalmente ci siamo quasi, manca sempre meno alla stagione e io non vedo l'ora di iniziare. Già settimana prossima inizierete a vedere tanti contenuti su come iniziare al meglio, web up, gestire gli FC Points, squad builder, tutti i contenuti che non ho voluto fare fino ad ora perché, insomma, mi sembrava un po' di sprecarli considerando che mancava ancora parecchio. Ma da settimana prossima si riparte a cannone. Io sono prontissimo. Vi ricordo come al solito lasciare un like e di iscrivervi al canale che per me è importante. Un salutone dal vostro Riberoski. Alla prossima. Ciao.